andiamo andiamo dai comunque qua c'è il trio vincerà una fattita e l'un altro vincerà dove cazzo va questo? è una pia roba dove? no questa c'è la scheda dell'amico per esempio ma anche tanto comunque con l'ambino che cazzo ci metteva insomma ho messo una roba della marvel vuoi essere Hulk cazzo guarda che bello beh questa è delle cose no? sono dei suoi droi Deadpool no? sta ammennando in tre guarda in tre sta ammennando questo Deadpool viola è fighissimo guarda quella al deserto la solita nel deserto eh? il Mirko? la solita nel deserto quale? la donnavamo sempre vabbè ormai cambia ormai cambia va all'arbero che amadonna sono lontano? come cazzo faccio arrivarci? arrivi arrivi arrivo devi planare Simon devi planare subito e poi scendi e poi scendi guarda che ho avuto la storia goddia e come ho fatto gestare più avanti di me che cazzo guarda che stai chiedendo dei nemici ma che ti faccio? sono dietro guarda qua poi resti del te lato dovevi planare perché è un altro posto prima te scendi guarda quanto stanno a venire là sotto stanno a macello ce ne sa che la vedo buio che vuoi vuoi mi hai donato i tre mi esce nella casetta Mirko qui scappo lì senza armi lo dico eh devi venire qua un pat puoi scappare ragazzi che vera ti fugge io sto sopra l'altra si ho visto ecco questa massa di fornimento arriviamo io non c'ho niente mi lo dico eh che cazzo spacco di tutti e soli tu ma che faccio? qua vieni i cerchi i cerchi quelli azzuli che cazzo so? ah c'ho appena sfida che devi fare a mezzo ai pianti tipo un percorso a tempo eh oddio porco ho trovato qualche arma timon? no ho trovato 15 colpi buona buona tu vuoi uno ho seccato qua ho trovato forse una cosa vuol dire a me ne ho capito certi che si mette la spara col pompa da lontano con un fucile del cazzo via qua via qua via qua via qua venii guys ci sono nemici eh sopra la cascata eh l'ho visto sta prendendo il culo sta troppo lontano volendo dobbiamo salì andiamo dentro a sta casa qua di legno oddio dove stai assurzzate dove veni da voi eccola a questa grande già ci siamo passati questa grossa qua dietro si quando cazzo ci siamo malati vuoi? si ah e allora forse che cazzo vogliamo fare vogliamo salì ce la avete l'armi? si ce la abbiamo si che cosa ci va vabbè cominciamo a vicinare se la questa cosa tanto yes ok e ora del super saigliano che cazzo è ma vaffanculo che restano a lanciare non c'è non c'è non c'è non c'è ci divertiamo con il trio abbiamo questo furgone parco di andiamo con questo cosa si andiamo dai io qui dove sparate dai si levati vai andate a sparare dovrà vai vai oh cucina regalo ah ah qua codio l'ho fatto un cazzano non è possibile ragazzi il bordello stasera il bordello può cadere qua in città fate il panico qua no è iniziato non ti sei in su no no sopra 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 ammazzato porco tuegiello ha zompato l'ho visto la nuve è stata immagata oh che sta lì tu ecco dietro 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 dall'altra parte dall'altra parte parca ammazzato scavo eeeh eeeh vai c'è c'è chi non c'è regà torba prima simon eeeh però si è venuto eh lo so fatto apposta ma vai mi hanno massato sì arca droga eh ragazzi si è caduto tutti avanti 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 questa arma è quella blu cazzo lo so ne ho siamo fatta la cazzata dai lo so quello là occupa troppa attenzione oppure se lo facciamo dobbiamo mostrare il movimento io perché comunque se voi che state fermi a voi che bezzagliano eh certo quindi me lo muovi sempre mi devo vabbè bubano a saperlo per le prossime e poi c'è sta a lanciarazzi manco funziona tipo non esplode nego no un po' ti è buizia che lanciava il spaccava più lui che una mitragliatrice che sembravano finte le cose che lanciava bagga dai ragazzi avanti tutta dai dai su devo dare una bella live allo streamer grazie dobbiamo onorare il canale esatto sì simon è un amico tuo qua mastership questo è più bello focacino beh sì quello che spara senza miri non c'è modo eh no eh no per forza quello no perché ho visto che se tu metti la visuale comunque il colpo va sempre in una direzione diversa sì se sai ma non deve non deve dare la mappa no ce l'ho io dalla parte della destra su 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 poi andiamo all'ultima struttura pure qua guarda pure qua ecco sì si ah no si può fare un buon infornimento qua dai un cazzo ma tu un cazzo mamma mia che serata eh ragazzi stasera è difficile è difficile è difficile stasera sì un po' abbiamo trovato anche i visciolini ci sono qui faccio compagnia la pena è rompa oh che cosa è lì beviamoci su ok avete pozioni scudo eh no eh come no cazzo ce le avete c'era boccette piccole tanto ne potete bere state bene sì mi mancava un cecchino che non ho parodio il cecchino ecco con questa va ragazzi sono carico eh a pallettoni vai facci vedere stai col pompa tutto anima e corpo ciocchino viola ecco vabbè non ce ne sta nessuno hai visto che roba che era quella guarda che ho trovato che era vai rega via qua via qua io sto pieno però vabbè che ho trovato allora no allora non la spreco non la spreco anzi c'è un po' così pieno spierta la mia sì sì non mi ha spregato questo era il stesso di qua casa maledetta dove stavo a morire qua stiamo quando siamo fatto quella partita ti ricordi? sì sì ecco il cecchino lo vendono e ti va a comprare ah io ho trovato uno viola ah non sei il cecchino va bene che vuol dire insieme il cecchino ma il mitra c'hai sì c'hai il mirino il mirino tiè tiè rincoglionito tiè è viola tiè rincoglionito perché levo questa chi è la viola viola ma la vio io che non c'è la colpita questa ah sì c'è una 140 serie questa buona il meccato nero degli almi rega beh dai ragazzi seguite il trio quasi sono state a mezza qua eh eh oh buono o blu almeno vogliamo andare verso sopra sopra che bordi ehm verso si no si verso la cuna diciamo ah ok stiamo andando a mezza le fratte però stavano bene qua ci tredano guarda semane si circondava delle donne che bello ok mi piacerebbe che stiamo andando eh qua non la fa interaggia la bomba ti serve il blu ok eccolo sono passati qua comunque si vede c'è le casse di rifornimento aperte non ci siamo stati noi prima qua non ci siamo stati animali non vi nessuno dove cazzo stanno non ci preoccupiamo stavano tutti insieme ma se vanno a vedere siamo 41 dai ragazzi li compatti ah poi ci stanno regalo lascia lao stai sali sopra semane non testa a casa vaffanculo è compiù vero sta uno sta distruggendo i nardi hai sopra le due no io non vedo sto raggiunto ancora mi stanno sparando da destra ecco ragazzi super lupo stanno a fare quello a me raga posta posta eccolo vanno atterato vanno atterato tacci vero mi è tosse regalo ma che cazzo termici hanno questi stanno dietro stanno dietro eh porco di stasera erano pure due come cazzo facevo no sono troppi qua regalo sono arrivati insieme regalo erano tanti non si molla non si molla è quasi morta pure questa con l'uomo porca puntana è riuscito arrivare dietro è mazza che mira pure prestato dobbiamo vincere vai che cazzo può essere vero mica ci punti sempre bene guarda ti dice sempre potrebbero fare ma devi pure culo questo gioco è pure che non stai andando in mezzo al casino la tg siamo provati la mezzo minimo minimo erano due squadre erano tre e mi sobra soldatrice poi sai come funziona in teoria uno ce n'ha due tu hai ceduto per primo con gli altri due ti devi pagare un po' con quell'altro e finita certo sai sai di orde tutta misto sai Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 ecco lo dietro la macchina pure buono sta qua perchè ha depilato da mochese stretta la zona ma non si può più prende quel era scappato questa piccola zona se stanno stiamo vicini è questa volta a 300 eccolo alla macchina è scappato scappato scappano scappano stanno la sua colina ok modalità cecchino stile ghost recon occo di te ammazzavo uno l'ha battuto morto morto sta là è andato è sceso è ficato dentro sai cosa stare con a camminare eccolo sta sopra a camminare quando veni fuori è vero come era l'embaggio dietro dietro che cazzo era la lanciata bomba qua è una partita ma cazzo stanno su di le guardie a barriera venite sopra col filo qua a barriera c'è stato ah se sta stringendo ah niente niente ciao ciao allora niente ciao ciao ma che un po' è barriera davanti a noi yes no niente sei andato dalla macchina la macchina la macchina si stavo a fare l'esplode un po' copiava prima prima c'è un cecchino c'è un cecchino questo chiamato questo qui da dentro occhio vai che c'hanno una mira del cazzo mazza dietro dietro raga dietro pure mi hanno seccato qui do stanno no 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 giri 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 sopra quello stanno a cecchino però c'è schiappone ma dove cazzo sanno? dietro aspetta sal, via qua sotto via qua sotto un attimo occhio che stava là sopra la sopra occhio che stanno arrivati ammazzalo cazzo di mila ragazzi eccolo la sopra la sopra che sa sopra, a destra, a destra, a destra a destra, a destra, a destra eccolo occhio occhio levati oh scottina ragazzi questi sono fenomeni oh scottina no allora cosa è fenomeni guarda che c'aveva l'arma buona c'aveva c'è chi non aveva più lungo ragazzi no no c'è chi non aveva c'è chi non aveva c'aveva il fusile era il mitra sono due ci sono due il col mirino il col mirino quello col mirino poi io non penso che è solo una posione dei danni dovrebbe essere pure di stabilità si si Oh via! Non hai visto da lontano? A me mi ha tolto tutto! Tutta la barra con la volta! Cosa ti prendi al pane? Vieni, lo sposti! Questo sta pure da solo, sta? Nuvoletta, che culo eh! Mazza! Una coletta tattica! Se no l'avano tripellato! Sì! Vabbè, per cui mi sei arrivato? Ah sì dai! Ti piace il giro? C'è cazzo la foto! Ma pure le armi buone, quelle cambiano! Deve fare una differenza! Eh! Eh! Guarda questo! Questa! 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 un giorno mastererai lo sportarti devi sfruttare la planata simon la banana la planata la banana ok ragazzi ci sono debbon è sempre attivo ok vedete qua che armi ma pure la banana di sfruttare venite qua venite qua vai ma il stand è messo che cazzo sta fa, e lei vado lui vedevo che passeggiava la convinto che era un'ottile si, ora io venite qua, venite qua mi è sanato le gaffe si vado giù eccolo mamma mia ragazzi guardate si regiazzovate senza mamma mia mori con i miei colpi no ma regà col pompa mai cioè ho un'esperienza assurda senza ammirino ragazzi mi ammazzo eh perchè questa occhio occhio ecco a post c'è l'altro eh c'è un altro dove dove subito eccolo tu moglie ma guardate ragazzi no c'era tu moglie la mia moglie adesso è morta mancava il pompa non c'è non c'è mancava il via 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 un attimo eh eh che robetta dai ragazzi mi sta salendo la adrenalina via vai c'è un cazzo raga qua c'è un cazzo che hai trovato è buono? niente cazzo cacca per me ti chiede la roba più buona beh ecco dai questa è buona oh oh dove? bello eccolo ora è io ce n'è pure un altro grande oh sto bastardo e non sa l'ho ammazzato io c'è per pompa d'oro manca c'abbiava no 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 gli ho dato due botte a un ammazzato deve il cecchino raga dove state? via oh che mi manca? dove sta quell'altro? eccolo prendete dai qua spagazzola no tanto ce l'ho a vedere dai io pure guarda qua ah no dove le manca? ah sai ma ne mancava perchè dai ragazzi siete attivi eh poi i follower a palla per il gruppo il trio non cazzo mille di vita qualcosa ragazzi ah no oh niente faccia l'armi non ci fai scherzi così cazzo stai sparato per provarmi ahahah ahahah una piazza ciao qua c'è un scritto c'è un scritto vieni dai ma c'è un cecchino qua Ho troppo io! Celeste ce l'ho! Ah ok, allora il tuo è meglio! Sette colpi però, ma cazzo fai! Ma scusa, prendi un po' di munizioni in giro! Sto piano! Cosa spostiamo, raga? Non prende la cassa quella grande, però è lontano! Scusa, raga! Scusa! Buona! Fucile a combattimento, buono! Però là è 1100! Dov' stiamo andando? No, io ho sentito quello, che c'era il baule, quello grande, ma sta troppo lontano, 1100! No, no, troppo! Troppo! Sì, ma non andiamo in mezzo a queste zone, è troppo aperte! Pesosa! Abbiamo una macchina che possiamo sfruttare! 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 Anche in realtà! È un sito! Non vedo nemici! Io! Non vedo nessuno! no 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 stavamo abbastanza tranquilli un attimo fa per i forniti dai dai poi c'è chi non è blu quando cazzo trovo le armi? è impossibile trovarle come no? per se sei del check in ecco qua vedo le munizioni quali vedi se te le danno qua la scatola verde anche io l'aria si sta stringendo la scatola verde qua sopra a me so io tu fa niente namo vado via c'era ne colpi da cecchino infatti c'è qualcuno che non ti stanno a tu esa? non fa niente morirà ma mi si dispare? vale questo cazzo di lupo di merda c'è stufa il lupo da non seguirmi? capola e basta si si è stufato eccolo è stato un po' lontano studiate le palme laggiù si mi ho levato tutta l'armatura lì scatola ecco il lupo deve seguire il lupo oh 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 mi hanno stato andato a coprirne stanno dietro perchè ah si si ecco ragazzi mi sono andato a circondare Che cagatura di coglioni questo Oh dietro Dietro sa Non imbredo Capibile Ciamo di ratona Eh Cazzà Io ho levato lo scudo Ciao Con Dio il culo Che cazzo De la maggiando Io non ci credo, non ci credo Ecco, dici una notizia È vero, è vero Non ci credo Sono morti? Ah sì Sta là, guarda Non ci credo Non ci credo E poi la... Poi si sta vicina mentre sta quello con qualcuno La gente così gioca Questa è tutta le schede le vostre Prendi qualche arma viola, scusa, ci stavi? Che cazzo ci stava viola? Ah, questo è mito Pure quell'altro Ce lo facevo io Anche il di là A me... Ma chi è questo? Mettete... Eh, vai! 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 Vabbè Perchè cazzo fa un picciolino quello? Perchè va al giro un picciolino la gente? Eh? Ma giro un picciolino Vabbè Perchè lo dico dei bonus Dei velocità Tipo Un 16 C'è avvicinato di più Però poi la carina La mattina in giro in cima Guarda che avvicinato di più Guarda che avvicinato di più Beh Beh Guarda che avvicinato di più Guarda che avvicinato di più Guarda che avvicinato di più Oh! Sono avvicinato di più Beh Perdure quella via Sì sì Noi stiamo senza armi Tanto Ok Fiate fiate vai E staziatevi Sì sì Ancora vivi ragazzi Ancora vivi E vengiti Guardi una temperatura Ma buona La protezione c'è un cazzo Sanno 9 eh Dietro Mi hanno fatto esplodere una scala Boh mi hanno sparato Capito io e qua capito la protezione Cori Che c'hai? La protezione Vecchiamè Dove stai? Da sopra Vai Vai Eccoli raga Eccoli Eh Orca troia oh Dietro Dietro Vabbè 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 Inotto Raga un'altra volta quella ce l'hai trovato l'ha ammazzato vai dietro vai fuori a sinistra dietro la casetta nasa oh madonna vai amico vinci 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 tutta perché non mi ha sparato non mi ha sparato non mi ha sparato per dio capettana erano troppi erano troppi ci hanno proprio soperchiato ma poi porco dio c'è questa qua sta ballando le staccionate ma perché non scoppiano le staccionate le staccionate le staccionate del fucile viola l'esercito avevo vinto quella ha vinto quella quella c'è c'è tutti i tre oh beh c'è un cazzo la favo cadra ragazzi ragazzi sembra dei vicini su ma voglia ma questa guardiamo l'armi domanda domanda notte regà e infatti due pianti ragazzi stasera è difficile per il trio non c'è niente da fare vabbè c'è sta amica te poti sempre super ma è bello che arriviamo fino alla fine arriviamo fino alla fine anzi stavolta grazie pure a Mirko ci ha aiutato tantissimo aspetta devo mettere dentro vai ma quando ha sparato il fucile no non mi ha sparato ma poi quello stava col fucile normale sembrava che ti stava a tirare le botte di pompa o ha cambiato all'improvviso c'è giunzina oh andata ma come giunzina oh fa la la cosa di giunzina dai questo qua occhia giunzina via pronto 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 si 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 tra un po' vengo tranquilla ciao chi è il posto che ti chiama? chi è Romina sa? no no una chiamata anonima dice come vieni che cazzo era? come vieni chi hai? chiamata anonima che amante è Romina è Romina ah scusa tutta questa competenza hai sconosciuti dai certo muo vengo muo vengo ragazzi anche le chiamate in diretta dicevo non le pare oh il mitra l'ho preso da vuole mi mi da pompa bella armi bianche eh la pozione è blu eh ho visto oh tutti buoni ma un cecchino del cazzo ah questo è l'aggetto è buona è lì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.